Uno spettacolare tamponamento a catena che ha coinvolto tre automezzi e una moto di grossa cilindrata ha provocato gravi danni ai mezzi e causato due feriti fortunatamente non gravi. Una coppia di coniugi tedeschi che sono stati trasportati alle cliniche gavazioni di Bergamo per controlli e accertamenti. Il sinistro è avvenuto attorno alle 12 in via Europa, la ex provinciale, all'intersezione con via Carrara, nella zona della cupola a Nembro. Una BMW diretta verso il centro di Nembro, mentre stava manovrando per svoltare a sinistra in via Carrara, è stata tamponata da una Mercedes condotta da due operai albanesi reduci dal lavoro in una ex cava di Peia. Un furgone Fiat Doblò, con a bordo un uomo residente a Nembro, ma alle dipendenze di una ditta di pedrengo, l'è finita addosso e a sua volta è stato tamponato da una moto Suzuki Ström, su cui viaggiavano un uomo di 61 anni di Augsburg e la moglie, diretti al lago di Garda dove sono attualmente ospiti. Nell'urto l'uomo e la donna sono stati proiettati in avanti, facendo un volo di 4 metri e finendo nella scarpata erbosa che ha attutito l'urto. Sul posto è intervenuto il 118 con tre ambulanze, della Croce Verde di Colzate, della Croce Rossa di Bergamo e di Alzano, e l'auto medica per i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale del Consorzio Valle Seriana di Nembro per la viabilità. Alle cure dei medici sono ricorsi i due coniugi, trovati dai soccorritori coscienti e senza evidenti ferite esterne. Poiché però l'uomo accusava dolori al torace e all'addome, sono stati trasportati alle cliniche Gavazzeni. I passeggeri degli altri mezzi sono rimasti illesi. Il traffico non ha subito interruzioni.